Lutto nel mondo politico locale. Morto Davide Bolognini. Il consigliere comunale domese aveva 50 anni. Il suo è stato un tragico gesto. A rinvenire il corpo ieri sera i familiari nella sua casa di Masera. Davide Bolognini aveva due grandi passioni, la corsa e la politica, oltre naturalmente alla sua famiglia. La notizia della sua morte è stata doccia fredda per tutti. Piangono i compagni del Partito Democratico. In lacrime l'intero consiglio comunale domese e con loro molti sportivi. I primi post pubblicati sulla sua pagina Facebook sono di incredulità e affetto. Bolognini era molto conosciuto e non solo in Ossola. In passato aveva anche ricoperto ruoli all'interno del mondo sindacale. Era stato nell'RSL di Accetati e negli anni delle lotte sindacali era stato in prima linea a difesa dei posti di lavoro. Agente di commercio e di professione, politico per passione, era da nove anni in consiglio comunale a Domodossola. Mancherà a tutti noi, mancherà anche a me, dice con la voce rotta dal pianto Rosario Mauro, che con Bolognini divideva i banchi consigliari. Mauro lo aveva incontrato l'ultima volta domenica. Si sono dati appuntamento per firmare un'interpellanza che avrebbero dovuto discutere il prossimo consiglio comunale. Tutto mi è parso normale, non mi sono accorto di nulla, ripete tra le lacrime Mauro. Anche il sindaco Pizzi è sconvolto, piange. Le battaglie politiche sui banchi del consiglio comunale con l'avversario Bolognini rimarranno un ricordo da custodire. Senza parole pure il presidente dell'Assemblea Municipale, Gianluigi Bottaro, ricorda il messaggio scambiato ieri mattina nella chat dei capigruppo di Domodossola. Avremmo dovuto incontrarci per calendarizzare la riunione per decidere la data del consiglio. Mi è parso normale, come sempre. Siamo di fronte ad una tragedia. Non ci sono parole, conclude Bottaro. Oggi le parole della segretaria del PD, Alice D'Ambrogi, e del compagno di partito, onorevole Enrico Borghi, che esprimono il proprio cordoglio alla famiglia. Manca il fiato, le parole non vogliono uscire, perché è difficile accettare quello che è successo. Ricorderemo Davide come una persona così tanto per bene, onesta, pulita, sincera e sempre pronta a mettere l'interesse collettivo davanti a quello individuale. Come la sua storia politica personale e i suoi ultimi incarichi da consigliere comunale e provinciale e nella segreteria del PD provinciale hanno dimostrato, dice D'Ambrogi. Borghi parla di un pugno alla bocca dello stomaco. Quando arriva la notizia avevamo appena finito la segreteria provinciale online. Avevamo atteso qualche minuto perché si collegasse anche lui, come faceva sempre. Invece aveva deciso di correre un'altra maratona. Siamo tutti scossi, sorditi, attoniti. Dentro l'incomprensione di una cosa che non si può umanamente comprendere, il riempianto di non aver saputo avvertire nulla conclude. Il dolore per una perdita di un amico e di un compagno con cui si sono condivise tante battaglie. I funerali di Bolognini sono in programma giovedì alle 10.45 alla Cappuccina di Domodossola.